L'Ottocento è stato un secolo complicato, particolare, difficile, in cui sono emerse nuove tendenze politiche con pregi e difetti, però con difficoltà ad essere accettate, ad essere introdotte nei vari sistemi occidentali, ad esempio il liberalismo, ad esempio la democrazia, ad esempio il suffragio universale, distretto e così via. Uno dei massimi esponenti della riflessione che si fece su queste novità nel corso dell'Ottocento fu il francese Alexis de Tocqueville, un padre del liberalismo moderno, un analista della società che stava cambiando e soprattutto della società americana che rappresentava appunto verso gli anni 30-40 dell'Ottocento l'avanguardia del sistema. Oggi presentiamo il suo pensiero, non sarà un video lungo perché in fondo i principi non sono tanti ma molto chiari, importanti e che hanno avuto un grande seguito nella riflessione politica e anche nell'evoluzione delle nostre società. Andiamo a cominciare. Un sorso di caffè proprio l'ultimissimo, dentro la tazza con la scritta andiamo a cominciare che pronuncio sempre in apertura di ogni video, come ci sono come sempre i soliti compagni d'avventura Ciotoporino, Dostoi, Batman, Andrea, il mostro per l'osso e il cuscino e quest'altro mostriciatolo qui e poi ci sono io, mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da tre anni superato ormai abbondantemente su questo canale realizzo ogni santo giorno, salto forse solo Natale e Caporanno ma per il resto ci sono sempre video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica che ripercorrono grossomodo il programma che si fa alle superiori ma vanno bene anche per l'università vanno bene anche per approfondimenti, vanno bene in molte, molte circostanze anche semplicemente per chi ha voglia di approfondire, conoscere e riscoprire cose che magari ha studiato molti anni fa o non ha mai avuto occasione di studiare Oggi parliamo di un filosofo, di un filosofo che di solito alle superiori non si fa o meglio lo si cita sempre, lo si cita tante volte in storia, in filosofia, a volte anche in letteratura così come nome, bisogna ricordare Tocqueville, questo l'ha detto anche Tocqueville ma poi Tocqueville davvero cosa ha detto non lo dice quasi mai nessuno invece è stato obiettivamente un grande pensatore, un anticipatore poi di certe riflessioni che si sarebbero poi sviluppate ancora meglio nella seconda metà dell'ottocento e poi nel novecento partiamo prima dalla vita, diciamo due cose e poi vediamo il suo pensiero dal punto di vista della vita dobbiamo dire nasce nel 1805 e muore ancora relativamente giovane nel 1859 quindi nasce nell'età napoleonica, attraversa la fine dell'età napoleonica perché è ancora un bambino quando Napoleone cade, quando arriva il congresso di Viena a circa dieci anni quindi l'età della restaurazione con tutto quello che ne consegue quindi prima la restaurazione della dinastia borbonica in Francia poi la rivoluzione del 30, poi la rivoluzione del 48, poi Napoleone III ovviamente fino alla morte avvenuta durante appunto l'impero, il secondo impero di Napoleone III quindi attraversa varie fasi, dalla restaurazione borbonica alla monarchia orleanista come viene chiamata alla seconda repubblica al secondo impero se non sapete bene di cosa sto parlando dal punto di vista storico in descrizione vi metto comunque qualche link se volete recuperare quindi un periodo di grandi cambiamenti in Francia, di grandi contrasti, anche rivoluzioni, moti, problemi una crisi politica molto forte che avrà anche le sue analisi anche da parte di altri filosofi pensate a Comte ad esempio che analizza proprio questa fase storica criticando l'anarchia intellettuale che secondo lui regnava in Francia però Tocqueville la vede da una certa prospettiva tutta sua perché Tocqueville appartiene a una famiglia aristocratica una famiglia aristocratica conservatrice e legittimista cioè i suoi genitori, la sua famiglia in generale spera che ritornino in Borbone e quando tornano in Borbone sono molto felice perché erano contrari a Napoleone contrari alla rivoluzione francese contrari ai cambiamenti che si erano verificati in Francia tra la fine del settecento e l'inizio dell'ottocento quindi famiglia diciamo così vecchio stampo in realtà Alexis de Tocqueville appartiene a questa famiglia quindi ha un suo retroterra culturale che proviene da questo ambiente ma è anche l'idea più moderne dei suoi genitori antenati perché lui sì è di stampo aristocratico e questa impostazione un po' conservatrice rimane nel suo pensiero ma è anche di indole liberale c'era giovane, legge molti pensatori illuministi legge Voltaire, legge Montesquieu soprattutto legge altri pensatori politici di questo tipo Rousseau stesso viene eletto e studiato da Tocqueville e capisce anche che certo il legittimismo certo il rimpianto per i Borbone rimane in parte un elemento della sua cultura e del suo patrimonio politico ma c'è anche una forte apertura al liberalismo ad alcune novità che gli sembrano abbastanza inevitabili nel corso della storia quindi un personaggio combattuto tra due mondi tra due realtà tra il vecchio e il nuovo potremmo anche dire c'era dire che studia, si laurea in legge ma la prima svolta vera della sua vita arriva poco dopo la rivoluzione del 30 dicevo in Francia ci sono varie rivoluzioni in questi anni una, forse una delle più importanti è quella del 1830 è quella che può comunque in descrizione trovate anche il link se non ve la ricordate è quella che porta alla cacciata di Carlo X sovrano legittimo e alla corona offerta a Luigi Filippo d'Orlean appunto la monarchia orleanista la monarchia che dovrebbe essere liberale perché Luigi Filippo ha fama di liberale quindi da un lato c'è lo spirito della restaurazione che però va anche un po' a fondersi con un nuovo rinnovato spirito liberale poi in realtà Luigi Filippo l'abbiamo detto in storia è liberale fino a un certo punto ecco in questa fase poco dopo questa rivoluzione che però Tocqueville guarda con un po' di sospetto il giovane Alexia Tocqueville perché nel 31 ha 26 anni da poco laureato decide di fare un viaggio in America negli Stati Uniti che sono nati nel 1776 e poco dopo quindi hanno una quarantina da anni una cinquantina da anni insomma per intenderci sono paesi giovani decide di andare negli Stati Uniti perché vuole studiare il sistema americano in particolare ufficialmente la causa del viaggio è studiare il sistema penitenziario americano perché in Francia bisognerebbe fare delle riforme lui si è laureato in legge sulle carceri e vuole vedere come funziona il modello americano che sembra essere più moderno quindi parte per quel motivo lì rimane in America vari mesi ma studia sia anche il sistema penitenziario ma studia soprattutto il sistema politico americano che è un sistema già democratico perché gli Stati Uniti sono nati senza un'aristocrazia un paese giovane, nuovo formato da migranti ed è un paese che prevede già forme democratiche di governo quindi elezione del Presidente della Repubblica tutto quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato della rivoluzione americana e soprattutto della Costituzione americana vi metto anche qui un link in descrizione poi torna in Francia e l'esito di questi suoi studi di queste sue analisi condotte in America viene condensato in un libro che è il capolavoro alla fine di Tocqueville che si intitola proprio La democrazia in America un libro che viene pubblicato in due parti tra il 1835 e il 1840 è il capolavoro ed è soprattutto il libro di cui parleremo anche oggi poi dopo il ritorno dagli Stati Uniti prova anche a fare una carriera politica ha anche un certo successo a un certo punto si batte viene eletto già nel 39 come deputato si batte per l'abolizione della schiavitù nelle colonie dove in parte era stata ripristinata si batte per una riforma del sistema penitenziario anche in Francia diventa molto attivo poi però arriva ovviamente qualche anno dopo la rivoluzione del 48 in Francia ricordate quella che caccia Luigi Filippo Dorleano la rivoluzione dei banchetti quella di febbraio del 48 porta prima a un governo provvisorio di stampo socialista poi una costituente poi all'elezione quindi nuova costituzione sul modello americano stavolta anche il legame con l'America torna e alla fine del 48 l'elezione del nuovo presidente che è Luigi Luigi Napoleone Bonaparte nipote del Napoleone di qualche decennio prima Tocqueville viene preso un po' la sprovvista da questi cambiamenti non sa bene da che parte stare nel senso che alcune novità sembrano anche positive alcune lo preoccupano moltissimo nel 49 accetta anche di diventare ministro diventa brevemente ministro degli esteri occupandosi anche della questione algerina che su cui la Francia sta puntando da tempo ma alla fine decide anche di ritirarsi dalla politica e in realtà viene messo in carcere a un certo punto quando soprattutto il buonapartismo di Luigi Napoleone Bonaparte sembra evolvere verso forme dispotiche quando Luigi Napoleone ricorderete fa il colpo di Stato poi plebiscito per diventare Napoleone III per chiudere la parentesi della seconda repubblica e fondare il secondo impero anche qui trovate un link in descrizione e lì Tocqueville che non accetta questo esito che lui vede come dispotico viene brevemente incarcerato poi viene scarcerato e si ritira a vita privata si occupa dell'altro suo libro che poi verrà pubblicato incompleto perché poi morirà anche relativamente giovane questo altro suo libro era l'antico regime e la rivoluzione che segna comunque un passaggio importante dal punto di vista storico nell'analisi della rivoluzione francese ma lì è più un discorso storico che filosofico quindi questa è la parabola di Tocqueville amante delle libertà anche conservatore per certi aspetti ma certo restì a raccettare gli imperi le rizzature consapevole che in realtà la storia sta andando verso la democrazia questa è la vita ma vediamo anche e soprattutto il pensiero in confronto con l'America e per l'Europa allora Tocqueville quando va in America vede un sistema che è molto prevantato di quello che però in realtà si sta già delineando anche in Europa lui vede l'America come un'anticipazione di quello che sarà l'Europa nel giro di qualche decennio e cosa vede l'America? vede ripeto la democrazia una democrazia che Tocqueville inizia a intuire come un esito inevitabile dal punto di vista storico le società occidentali stanno andando in quella direzione si può rallentare si può accelerare ma quello sembra l'esito scontato dell'evoluzione politica l'abbiamo avuto un assaggio con la rivoluzione francese ma questi temi torneranno la restaurazione non avrà gioco facile a riportare indietro le lancette dell'orologio di questo Tocqueville ne ha convinto e c'è da dire anche che la democrazia non è un male in sé Tocqueville apprezza alcuni aspetti della democrazia ci sono sicuramente dei pregi nella democrazia nella democrazia americana e quella che probabilmente arriverà in Europa anche prima o poi come anche ci sono però anche dei limiti e dei difetti Tocqueville è forse il primo a elencare forse in parallelo a Stuart Mill in Inghilterra che scrive poco dopo ma non molto dopo a elencare pregi difetti della democrazia i pregi sono abbastanza evidenti intanto c'è un'uguaglianza del diritto tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e questo per Tocqueville è sicuramente un pregio vengono aboliti i vecchi sistemi di casta i vecchi sistemi di privilegio che invece avevano regnato nell'ansier regime e guardate bene Tocqueville lo dice da aristocratico che questo è un pregio quindi consapevole del fatto che il vecchio sistema aristocratico non è destinato a durare quindi bene aspirazione o comunque uguaglianza nel diritto tra tutti i cittadini aspetto positivo questo si traduce anche in una potenziale mobilità sociale le democrazie sembrano promettere la possibilità almeno potenziale per le persone di cambiare livello sociale di poter ascendere nella scala gerarchica di poter anche discendere nella scala gerarchica questo è l'effetto dell'uguaglianza è la possibilità da parte di tutti di poter in base ai loro meriti in base alle loro capacità in base ai loro talenti alle applicazioni di poter migliorare la loro condizione questo è un altro elemento sicuramente positivo per Tocqueville infine sicuramente anche una una sorta di spinta di sogno di aspirazione che in America già inizia a essere presente verso un miglioramento delle condizioni la democrazia promette e proprio tramite questa promessa di uguaglianza promessa di diritto promessa di ascesa ti spinge a fare quindi è un sistema tutto sommato positivo perché è virtuoso perché sembra sospingere la popolazione a un miglioramento progressivo delle condizioni a un impegno civile eccetera quindi questi sicuramente sono i pregi forti della democrazia ci sono però dice Tocqueville anche dei svolti negativi dei limiti in particolare il limite che più di tutti emerge secondo Tocqueville è legato al soffragio universale un soffragio universale che crea rappresentanza in Parlamento in America già c'è il congresso con Camera dei rappresentanti e Senato crea un meccanismo della rappresentanza che porta a decisioni prese a maggioranza ovviamente in America ma poi in tutti gli altri sistemi parlamentari che stavano imponendo in giro per il mondo il criterio per le decisioni era sempre il criterio della maggioranza si votava in Parlamento la maggioranza vinceva imponeva le proprie leggi imponeva le proprie decisioni sulla minoranza questo poteva essere ovviamente un problema e poteva perché poteva essere un problema ecco il sistema che usiamo anche noi oggi ovviamente quindi dove sta il problema il problema sta nel fatto dice Tocqueville che la maggioranza può imporsi sulla minoranza cioè può usare una forma di tirannia della maggioranza o di dittatura della maggioranza nei confronti della minoranza facciamo un esempio inventiamocelo è solo per farvi capire il meccanismo che Tocqueville identifica e che diventa importante poniamo che ad esempio in un paese dove vive l'80% di persone con la pelle bianca e il 20% di persone di colore l'80% di persone con la pelle bianca decida di varare delle leggi che obbligano le persone di colore a lavorare il doppio degli altri è un esempio paradossale ovviamente ora se si votasse in Parlamento e se l'80% dei bianchi fosse coeso su questa decisione la decisione in Parlamento passerebbe e questa potrebbe diventare una legge una legge con cui la maggioranza si impone sulla minoranza obbligandola a fare cose che la minoranza non ritiene giuste capite? oggi nei nostri sistemi democratici occidentali questo non sarebbe possibile perché noi abbiamo delle costituzioni che tutelano le minoranze che imperiscono di fare leggi di questo tipo che discriminano un gruppo una minoranza eccetera ma nei sistemi dell'ottocento quando la democrazia si stava formando non c'erano sempre queste costituzioni vi ricordate che proprio le rivoluzioni del 30 del 48 eccetera sono rivoluzioni per chiedere le costituzioni oppure anche quando ci sono queste costituzioni pensate alla costituzione americana che certo c'era non sempre sono costituzioni così elaborate che difendono le minoranze guardate bene la costituzione americana ad esempio c'era diceva tutti gli uomini sono uguali ma poi gli Stati Uniti avevano la schiavitù quindi gli afroamericani erano schiavi lavoravano più del doppio quindi la maggioranza imponeva sulla minoranza delle leggi delle norme tipo la schiavitù che erano ovviamente lesive della dignità di queste minoranze ci vorrà parecchio tempo prima che l'America faccia aggiunga degli emendamenti alla costituzione che ad esempio aboliscono la schiavitù e poi che mitigano anche la segregazione razziale sapete che l'abolizione della schiavitù in America arriva dopo la visita di Tocqueville con la guerra di secessione negli anni 60 dell'Ottocento con un emendamento alla costituzione prima era legittima e lì questo è un esempio di come una maggioranza si imponeva su una minoranza violandone dei diritti che oggi consideriamo diritti naturali il diritto alla libertà il diritto alla proprietà privata il diritto alla vita eccetera ok quindi cosa dice Tocqueville occhio bello avere un parlamento bello votare i propri rappresentanti ma questi rappresentanti potrebbero in base al criterio di maggioranza imporsi sulla minoranza diventando dittatoriali di fatto cioè una maggioranza coesa imporne tutto quello che vuole una minoranza e non c'è niente da fare a meno che non esistano appunto normi di rango superiore che tutelano le minoranze questo può vuole dire che se tu sei in minoranza sono sempre gli altri a decidere e quindi che democrazia è una democrazia in cui tu non conti niente di fatto perché sei sempre in minoranza e vieni sempre messo da parte a subire è una forma di dittatura anche questa è la dittatura della maggioranza quindi sicuramente questo è un limite un difetto una problematica che emerge ma poi di certo qui ce ne sono anche altre di rimando di problematiche legate a questa società democratica intanto che è una società che tende a massificare e lui lo vede in America già poi in Europa manca ancora un po' questa deriva ma arriverà anche in Europa ne ha convinto Tocqueville e qui anticipa i tempi cosa vuol dire massificata? vuol dire che a contare non sono più tanto i singoli ma sono le masse quando c'è il suffragio universale tu come singolo conti pochino tutto sommato no? pensate in Italia siamo 60 milioni diritto di voto quanti ce l'avranno? 40 milioni non so quanti c'erano i maggiori anni in Italia forse di più 45 milioni 40 milioni non lo so ipotizzo 40 milioni io conto il mio voto conta un 40 milionesimo cioè 0,000000 molto di 0 e poi qualche uno ciò conta poco io non conto quasi nulla da solo a contare sono le masse a contare sono i grandi gruppi i centinaia di migliaia se non un milione di persone che votano magari lo stesso candidato lo stesso partito eccetera quindi la mia autonomia di pensiero va a farsi un po' friggere nel senso che ha un peso estremamente relativo si disperde nel voto complessivo di tutta la massa a contare sono le masse mettiamo che io sia una persona originale che ha pensieri molto originali e che però io sia l'unico nel mio quartiere nella mia città a pensarla così tutti gli altri la pensano tutti uguale allora io non conto niente perché quando tutti gli altri la pensano uguale e votano tutti insieme eleggono quel partito e io posso anche dire guardate che state sbagliando tutti ma non mi ascolta nessuno capite tendono a prevalere le masse sull'individuo e quindi tendono a prevalere più che le opinioni originali più che le opinioni approfondite le opinioni massificate cioè le opinioni più banali la visione più scontata e comune e massificata sulle cose che non è sempre la migliore ovviamente dice Tocqueville spesso è proprio banale in sé spesso è priva di spunti di spicchi di creatività insomma prevale la piattezza prevale la piattezza e questo è un difetto delle democrazie tendono ad appiattire tutto ad appiattire le idee politiche ad appiattire i talenti ad appiattire le innovazioni eccetera perché contano di più le masse dei singoli e il paradosso è che nonostante questo calo del peso specifico del singolo secondo Tocqueville questa società di massa è anche atomista cioè nonostante contino le masse e i singoli almeno i singoli originali non abbiano capacità ad incidere o facciano fatica ad incidere veramente la società non riesce a unificare veramente il popolo il popolo tende a secondo lui disinteressarsi della politica quando capisce di non contare davvero il personaggio che pensa con la sua testa o si adegua a pensare con la testa della massa o si disinteressa della questione si occupa di altro si isola si aliena dalla società e quindi si viene a creare una società di persone o che non pensano o che smettono di pensare perché stanno per conto loro perché si vedono e si sentono separate da tutto il resto quindi bene la democrazia guardate che Tocqueville apprezza anche molte cose della democrazia non sta negando il valore in sé della democrazia ma sta dicendo attenzione la democrazia oltre ai pregi porta con sé anche parecchi difetti allora se questo è il problema e Tocqueville pensa di averlo individuato cosa si deve fare? come si fa a trovare un equilibrio tra democrazia potere democratico che ha un senso che ha un valore in sé e libertà individuale peso del singolo che anche essa ha un valore in sé bisogna trovare un equilibrio tra questi due bracci della bilancia potremmo dire così tra questi due poli che alla fine è come dire un equilibrio tra libertà e uguaglianza che è un tema che Tocqueville pone in essere in maniera chiara ma che tornerà nel corso dei secoli in fondo se ci pensate a tanti pensatori politici dell'800 e del 900 il tema è proprio quello libertà e uguaglianza come dobbiamo farli convivere? possiamo farli convivere? dobbiamo dare più peso alla libertà più peso all'uguaglianza trovare un compromesso come è possibile eccetera cito solo per fare un esempio fresco perché ne abbiamo parlato da poco Rawls un grande pensatore politico del 900 degli anni 70 80 del 900 che ripiene proprio questa tematica ripiene proprio questo problema come lo affronta Tocqueville lui dice attenzione visto che la democrazia va bene per certi versi ma va male per altri bisogna trovare dei correttivi in un certo senso degli antidoti dei modi per allentare il peso dei difetti della democrazia per appunto disinnescare certi pericoli della democrazia quali sono questi antidoti quali sono i mezzi che possiamo mettere in campo primo luogo dare grande peso all'opposizione a governare nei sistemi politici democratici sono le maggioranze bene e questo è inevitabile in un sistema in cui qualcuno dovrà pur governare una maggioranza si dovrà pur formare però secondo Tocqueville più della maggioranza è importante l'opposizione cioè la minoranza l'opposizione parlamentare l'opposizione nel paese chi si schiera contro chi sta governando questo schierarsi contro non deve essere questa posizione non deve essere un'opposizione fino a se stessa dice Tocqueville non deve essere puro gusto dello scontro ma deve essere un'opposizione che lui sembra pensare come un'opposizione di garanzia cioè un'opposizione che sta lì perché deve controllare che la maggioranza non vada oltre un certo limite no quindi quasi un'opposizione di garanzia costituzionale di remoge anche se Tocqueville non pensa tanto alle costituzioni cioè la minoranza non deve stare a subire basta deve farci sentire deve ricordare continuamente alla maggioranza attento questo puoi farlo questo no attento questo campo funziona questo no in questo caso ti stai comportando legittimamente in questo campo invece stai applicando mosse tiranniche dispotiche eccetera quindi garanzia costituzionale dell'opposizione che ha un ruolo le minoranze vanno tutelate le minoranze vanno fatte sentire bisogna dargli anche un ruolo istituzionale in un certo senso e quindi questo è il primo diciamo forte antidoto al problema il secondo antidoto è l'educazione dice Tocqueville bisogna educare ma educare a cosa? non tanto alla cultura in sé perché anche la cultura Tocqueville non è che disdegni la cultura eccetera ma soprattutto alla libertà Tocqueville ha convinto che proprio perché in questo binomio uguaglianza libertà la democrazia spinge molto sull'uguaglianza noi dobbiamo controbilanciare questo spostamento verso l'uguaglianza che tende a rappiattire però anche con una grande educazione che rendono i cittadini autonomi indipendenti e appunto liberi visto che il cittadino che non si vede rappresentato nella maggioranza tende diciamo prima a isolarsi ad autoescludersi invece noi dobbiamo abituarlo spingerlo a parlare anche se è l'unico a parlare anche se è una voce nell'eserto spingerlo a esercitare le sue libertà e a custodirle proteggerle mantenerle per il bene di tutti alla fine non solo per il suo certo anche per il suo bene ma per il bene di tutti del sistema del meccanismo questo aspetto dell'educazione della libertà è importante perché Tocqueville arriva a dire che il grande pericolo delle democrazie che lui vede all'orizzonte non è solo la dittatura della maggioranza molto spesso nei libri si insiste tanto su questa tirannia della maggioranza dittatura della maggioranza libri di storia libri di filosofia è sempre questa espressione che si associa a Tocqueville Tocqueville uguale dittatura della maggioranza rischio di dittatura della maggioranza verissimo ma Tocqueville dice in realtà attenzione sì questo è un rischio ma il rischio ancora maggiore è l'apatia cioè non solo che la maggioranza inizia a esercitare il suo potere ma che nessuno le si opponga perché che la maggioranza provi a superare i suoi limiti ce lo possiamo anche aspettare ma se c'è un'opposizione che ama la libertà e che combatte la maggioranza sta entro i suoi limiti se invece dall'altra parte nelle minoranze nelle persone che pensano con la loro testa nei singoli c'è la voglia di non combattere più l'apatia cos'è è il fatto di dire come dicevamo prima sì io ci ho provato ma nessuno mi ascolta e allora mi occupo d'altro ecco questa apatia questo disinteresse verso la politica è il peggiore dei mali perché questo disinteresse verso la politica per Tocqueville che genera poi una vera tirannia della maggioranza la tirannia della maggioranza si può imporre solo se c'è questa apatia e quindi bisogna stimolare dicevo l'amore per la libertà l'amore anche per la politica l'amore per l'attivismo cosa che secondo Tocqueville si può fare a patto di proteggere quelli che lui chiama ed è un discorso modernissimo i corpi intermedi ciò lui dice attenzione nel vecchio regime nell'ancien regime tra governo e cittadini tra stati e cittadini c'erano quelli che possiamo rifinire dei corpi intermedi cioè delle vie di mezzo di passaggio tra stato e cittadino che facevano tramite che organizzavano la vita dei cittadini che la custodivano che la proteggevano che la tutelavano chi erano questi corpi intermedi potrebbe essere anche la nobiltà in certe fasi che aveva anche un compito di proteggere il contado eccetera potrebbe essere la chiesa che suolgeva questo compito potrebbero essere le associazioni di categoria le arti e i mestieri eccetera c'erano vari corpi cioè varie istituzioni formali o informali che aiutavano i cittadini e lo proteggevano nella società di massa secondo Tocqueville questi corpi intermedi tendono a scomparire perché ci si appiattisce quindi c'è da un lato il governo cioè da un lato il parlamento se volete e dall'altro il cittadino senza niente in mezzo che faccia da tramite da punto di passaggio da protettore anche dei cittadini perché si ritiene quasi che i cittadini non abbiano più bisogno di protezione perché i cittadini votano in realtà in realtà dice Tocqueville i corpi intermedi hanno un ruolo di tramite ma anche di organizzazione politica delle minoranze e delle maggioranze dunque se la minoranza vuole contare se la minoranza vuole vedere protetti i propri diritti deve avere dei corpi intermedi che l'aiutino non la sostengano non la organizzino no? ad esempio uno dei corpi intermedi che dovrebbe fungere a questo scopo secondo Tocqueville è proprio la religione lui nota che in America c'è anche una spinta quasi religiosa all'attivismo politico in certi casi sono le comunità religiose ad avere un peso siamo all'inizio ottocento ebbene la religione può avere una funzione di questo tipo anche può avere una funzione con cui la maggioranza non può prevaricare i diritti delle minoranze se queste minoranze sono almeno protette o aiutate o sostenute da gruppi religiosi se ci pensate bene solo per fare un esempio moderno negli Stati Uniti gli afroamericani che erano sempre trattati prima come schiavi poi segregati una parte della protezione o comunque dell'organizzazione civile degli afroamericani è arrivata anche tramite proprio la chiesa Martin Luther King era un pastore per fare un esempio non solo tramite la chiesa anche tramite associazioni e altre forme ma anche tramite la chiesa quindi sicuramente l'aspetto religioso negli Stati Uniti Tocqueville ritiene un punto di passaggio importante non solo anche le associazioni vere e proprie l'associazionismo secondo lui un altro antidoto è proprio questo favorire la nascita di associazioni di cittadini di tutti i rami di tutte le correnti di pensiero di tutte le idee perché ovviamente questo serve a tutelare le minoranze serve a tutelare le idee originali serve a creare partecipazione politica che è l'antidoto migliore all'apatia e quindi alla dittatura della maggioranza quindi capite vedete ci sono dei rischi ci sono anche delle cose che possiamo fare che possiamo favorire su cui possiamo spingere per evitare che questi rischi si realizzino per chiudere vorrei leggervi un piccolo brano su qualche riga di Tocqueville ve lo mostro anche a schermo che fa notare come alla fine Tocqueville avesse visto molto giusto se avesse visto quali erano le possibili derive della democrazia che è un bene ma che porta con sé sempre anche dei grossi rischi vi leggo le parole poi le commentiamo diceva questo Tocqueville se cerco di immaginare il dispotismo moderno vedo una folla smisurata di esseri simili ed uguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piccoli e meschini piaceri di cui si pasce la loro anima al di sopra di questa folla vedo innalzarsi un immenso potere tutelare che si occupa da solo di assicurare sudditi il benessere e di vegliare sulle loro sorti è assoluto minuzioso metodico previdente e persino mite assomiglierebbe alla potestà paterna se avesse per scopo come quella di preparare gli uomini alla virilità ma al contrario non cerca che di tenerli in un'infanzia perpetua lavora volentieri alla felicità dei cittadini ma vuole essere l'unico agente l'unico arbitro provvede alla loro sicurezza ai loro bisogni facilita i loro piaceri dirige gli affari le industrie regola le successioni divide le eredità non toglierebbe forse loro anche la forza di vivere e di pensare ecco vi ho voluto leggere queste parole perché sembra leggere il 1984 di George Orwell se ci pensate bene cosa sta dicendo qui Tocqueville dice per come vedo io il mondo futuro lo vedo così una massa informe tutti uguali appiattiti il sistema democratico spinge verso quella direzione ed è anche vero che sicuramente l'età della democrazia è un'età di massificazione che si occupa di cose di poco conto dice gira su se stessa in cerca di piaceri di poco conto sta al cellulare sta a guardare la tv sta a occuparsi di inezze mentre il potere è affidato a un grande capo uno o un partito o un grande fratello che veglia sugli altri un dittatore eccetera che è stato magari approvato dalla maggioranza ma che adesso vuole essere il grande papà dice sembra quasi una figura paterna se non fosse che non sta facendo crescere i cittadini li tiene piccoli dice mi occupo io di voi voi occupatevi delle vostre passioni dei vostri divertimenti non occupatevi più di politica no? gli sta dicendo me ne occupo io per voi che io so far andare bene le cose io sistemo tutto io faccio arrivare in orario di treni io vi farò guadagnare bene io vi renderò felici fidatevi di me e occupatevi d'altro io vi custodisco e il grande fratello di Orwell fa esattamente questo qua dice Tocqueville se lo immagina anche mite questo grande padre in 1984 nei regimi totalitari era tutt'altro che mite però l'immagine è tremendamente efficace anche quella di Tocqueville e ovviamente lui dice vuole per carità vuole magari davvero rendere felici i cittadini ma vuole essere solo lui l'artefice di questa felicità vuole essere lui a prendere tutte le decisioni dice dirigere gli affari le industrie le successioni le eredità fa tutto lui decide lui per tutto è onnicomprensivo dirige anche l'economia dirige la politica dirige tutto tu cittadino dimenticati di questi affari me ne occupo io tu cittadino pensa a divertirti ecco dice non toglierebbe anche la forza di vivere e di pensare a questi cittadini un sistema del genere un signore del genere ripeto è 1984 magari un po' più subdolo perché è ancora più subdolo qui però questo è l'esito che Tocqueville teme per il futuro come si fa a disinnescare questa profezia come si fa a evitare che le cose vadano così secondo Tocqueville bisogna creare questi corpi intermedi bisogna far amare la libertà bisogna proteggere le minoranze proteggere le opposizioni insomma lavorare per una democrazia compiuta verrebbe da dire per una democrazia matura e liberale dal punto di vista di un pensatore liberale Tocqueville è uno dei grandi pari del liberalismo ottocentesco perché se l'uguaglianza premere una parte bisogna controbilanciarla con la libertà ecco questo sostanzialmente è il pensiero di Alexis de Tocqueville grande pensatore francese del liberalismo ottocentesco che fa il paio con John Stuart Mill che dice cose estremamente simili in parallelo dall'Inghilterra ma siamo proprio lì e in descrizione vi metto il link a John Stuart Mill tra l'altro tra poco ve lo preannuncio inizieremo a leggere il capolavoro di Stuart Mill che è sulla libertà on liberty la leggeremo integralmente nella rubrica book club storico-filosofico che iniziamo tra pochi giorni per intanto per oggi direi che abbiamo finito vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui mentre spiegavo trovate i link agli altri video che ho citato trovate i link a tutte le playlist principali social network e soprattutto newsletter settimanale gratuite che consiglio caldamente poi sempre in descrizione infine trovate anche i modi per rimanere non solo in contatto ma anche per sostenere il progetto se vi piace quello che faccio volete darmi una mano potete farlo con donazioni con libri videocorsi merchandising quello che vi pare ma poi soprattutto anche con l'abbonamento al canale che è un modo per sostenere proprio le iniziative con pochi euro al mese decidete voi quanti e in cambio ottenete anche dei vantaggi esclusivi tipo possibilità di votare e di proporre nuovi video questo video di oggi è stato proprio scelto dagli abbonati possibilità di avere le dispense di filosofia da me realizzate in forma scritta proprio per studiare possibilità di avere una chat privata riservata a un gruppo telegram con me con gli altri abbonati possibilità di avere video in anteprima di dette esclusive e altro ancora ho finito ci vediamo presto per altri video di filosofia ma anche di storia ed educazione civica e tutto il resto ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.